Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il nucleo freddo tende ad allontanarsi verso est e con sé anche in instabilità. Una nuova rimonta anticiclonica è alle porte, infatti il tempo sarà stabile, salvo addensamenti sui rilivi e le temperature saranno nuovamente in ripresa, specialmente nei valori massimi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per lunedì 19 maggio. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio presenza di poche nubi o velature sui cieli dei settori più interni o a ridosso dei rilivi, ma senza alcuna precipitazione. In serata cieli stellati ovunque e clima fresco. Temperature rialzo soprattutto nei valori massimi, ma ancora fresche per il periodo. I venti soffieranno nella prima parte della giornata ancora moderati da nord, per quanto riguarda i mari, molto mosse o agitati, ma con motondosi in attenuazione dalla sera. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Nunzio Micale per questa bellissima foto che ritrae il farro di Vieste baciato da un caldissimo sole estivo. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.